Gli è partita la live 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 Si, ok Allora, attenta ragazzi, vi do il benvenuto Sono Matti Marz, con me c'è anche Pablo Buongiorno Pablo, aspetta che ti alzi perchè stai basso di Prova a parlare Buongiorno Buongiorno Oggi portiamo For the King Che è un gioco gratuito Su Epic Games per il momento Quindi se lo volete prendetelo Perchè per l'oppo non c'è più Un gioco carino che io avevo già adocchiato su Steam Un bel po' di tempo fa Però poi non l'ho mai comprato Perchè scuscire limoni Insomma ci sono priorità Di giochi ben più Però non è malvagio Non è malvagio Difficoltà ma anche di Vado normale o easy Normale Normale vogliamo prendere Prendiamo il normale Te lo dico Si allora aspetta Ma Allora E' tanto cosa devo fare Nuova partita Coppo Ah ah ho stato un anno Rifare Nuova partita Seleziona difficoltà La prima mischia mente La prima La prima Apprendista dai Apprendista Coppo online Si online Copsi Dagli nome Ehm Mettono una password Metto Apo assurda Mettiamo 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 Pitch No ma si Tanto non serve perchè l'unico modo perchè un altro giocatore La scelta si unisca E' tramite discord Però cosa facciamo Per il re Avventura nel genere Profondità dell'omaro No per il re Per il re dai Per il re Che avanti Per la partita Io somminisco da Aspetta che c'è un nemico forse Quindi te devi scegliere un personaggio io uno Ah aspetta un secondo Ehm In teoria si Però aspetta che c'è il mio altro nemico E giochiamo in tre Ah Giochiamo in tre Ehm Lo potessi spostare da Dalle chat Che non mi ha permesso Aspetta Eccolo Ciao Buondi Salve come failare Prozzo Ah vince Mai ti sta stimando Quindi sappi tutto quello che dirai Potrei essere usato con il 3 in tribunale Sappilo Si ne avverto Sappilo Sappilo Le hai fatto firmare? Perfetto Perfetto Devi pagare i soldi eh Per un po' Ah ok Devi sborsare Ah vabbè solo 100 euro dai Assolutamente Assolutamente Di poco niente Esatto esatto In realtà è da due centesimi per due anni Onesto Eh Se tu vinci così abbiamo tutte le cose sbloccate No non è che erano tutte le cose sbloccate Molte cose sbloccate Solo che leggendo sopra Al discord di Forte King Dato che il cross play Non c'è il cross play Niente Allora posto Purtroppo Quindi procedo? Sì sì Creggio Noi entriamo in lobby Non faccia partire subito Se no rimaniamo fuori Allora io sono alla scelta dei personaggi Che? Ma che facciamo unirci noi? Vince da discord No non deve stare alla scelta dei personaggi Sì da discord Devi stare nella lobby Prima di quella della scelta dei personaggi Allora a me ne fa scegliere uno No devi tornare indietro ma altrimenti non possiamo entrare Ma si? Eh si devi tornare tipo indietro non so come fai Esca Alla schermata dove c'è il tuo nome e poi dovrebbero raggiungersi anche i nostri nomi Allora io sono ritornato su all'inizio Ok lo carica il gioco Allora devo rifare una nuova partita No puoi anche caricarlo Il teoretto l'ha salvato No ma non credo perché io devo ancora selezionare i personaggi Quindi non mi ha salvato niente Vabbè allora rifarlo da secondo del volo Allora nuova partita Apprendista per il re, copponline La password e twitch La nome partita mighty Che è partita Adesso mi ci accetta procedi Vado? No aspetta Ah si si in fondo ok si e ci procedi Allora era dove lo prima Aspetta guarda lo streaming Allora alzo Che se no non ci capiamo Allora No fai ask se hai una partitappa avanti O Arti No non sono Arti Ah non so Chi e chi Eh è il solito Chi e chi green Cambi cambi costa ogni secondo Eh fai io B a nulla? No mi scelta il nickname Devo ritornare indietro? Si rifarò a nulla Comunque lo li B no? Per esempio li ask B Ok No dimmi ti cosa devo fare Eh eh co O copponline Quello lì Copponline e eh 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 se le serve No allora senti facciamo 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 io facciamo prima Tanto io ho già due cose sbrucca Facciamo così Apprendista Ok Ok ma ti vai sul mio nome da stime E unisciti Ci deve comparire il simbolino Entra nella partita non so adesso Ecco Anche te hai vincere da me Dovresti vederlo Ma scusa che la differenza da quella che ho fatto io qual'era allora E' che tu hai fatto porcidi non devi fare porcidi scusa non ho capito Dovresti in questa schermata altrimenti posso anche fare così Allora Metto un'invito in certi giochi se non riesce Se mi mandi l'invito Puoi ci girare Si è sul tuo disco Posto Ci fai a mandarmi l'invito? Si è sul canale Non posso mandarlo Un copiarlo Devo poterlo andato su gruppo Chat di videogiochi Ah su disco l'ho messo Eh se no non me lo fa mettere su dei chat per singole Vediamo se va Di che te vince l'ho messo su Mighty Mars Lei si ho messo contro nessuna cosa No no Visto che Mighty non ha visto pensavo Non so se si toglie le notifiche Cosa del genere Vediamo un po' Ok eccolo Ci sono Vabbè fa niente Ok Riusciti Ma come l'hai montato sul disco dell'invito? Ah Una volta che sei in gaming che hai le lobby Ti compare nel più Nel più di Lega nella chat e Discord Ti compare un Una fraccettina play E se ci fai tasto destro Tiki e ti dice alcuni city al Invitiati al Un servire partita Eh non so perchè a fondo in questo modo Forse non ho ancora sviluppato la parte Delle copolo in Discord Non so perchè Non so perchè E' l'unico modo Purtroppo Quali sono fallita? Quali sono fallita? Quali sono fallita? Un invito Un'altra volta Oh Oh boy Olti nel volume del gioco Un'ora Perchè 2014 Mi sta prendendo for the king Stephen Ma cos'ho Ok Ok ho 2 von der. Nice Aspetta Somethings is wrong ron perché le pietre in cui non mi sono appassato a me non me l'ho aperto da st c'è la voce aperta operando non lo ha aperto infatti un po' di 4.5 euro e si chiama sclerato l'ho aperto disinstall la steam easy il steam perchè mi piace da ora ci sono cose che si è fatto lì ritentiamo non altro l'ho più forte che ho aperto l'ho più forte assolutamente a me che non mi vanno le robe formati che qui 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 parli e ti evitato sto buono l'ho più forte allora i cosi per me v cutter lo sbloccante la legna lo sbloccato indio il c l'ho più forte ok 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 m ok precette della controlla per entrare di dico di comparire a destra che cosa e le tre freccette le tralinette scusa in cui posti piccoli al centro e scelta classe allora io prendo quando è il big blacksmith e woodcutter ce l'ho già io quindi classe fisica no ministra mostrano il manello studioso studioso e sarebbe il marco c ok io tutto bello celestino mi piacciono stumizzatevi il coso celestino mi sembra un po' una donna con questo berretto però come al solito faccio eccolo il cacciatore più del gbt della storia basta textore del gt ok che mettevi il nome se volete pronti vai sul ciglio del caos e ti leggo tutte le cose lo schifiamo magari leggi ma dato che siete legiti ma oggi lo faccio parisciano in inglese vabbè cercate Heirbrand nel città di Wootmuk lì vi dirà come aiutarci al meglio la vostra missione all'inizio colpite contro il caos o il nostro reame sarà consumato ok ma ognuno va dove gli pare praticamente sicuramente sicuramente risponde turno di paolo da già segato due movimenti noi abbiamo zero soldini vabbè in questo momento ehm 9 9 10 vedi canto spolotono no no 8 ore io ho scatti sono lento lo sapete purtroppo ehm mai quanto sbapparo ma faccia i due ogni volta due 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 poi l'unico turno che non ti serviva i cinque esatto non è onesto ma le banche ti ricordi che si fa prendere barche in mezzo ci vuole la ricerca da pagare tipo un bel power prende una barca fa veramente tanto inoltre che ce l'hai per andare è ovviamente nel male solo che è una grandezza per centuale di trovarti un cracker e finiti una battaglia con il cracker non è bello signor 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 leggera a leggere sempre bello vedere come faccia a dire inizia la missione sono il programma la regina via del mio detto che no regina le genti della regina controllano la foresta il guerriero foresta le cose erano male qua molto male ok ok ehm ehm è in inglese però è come se avessi preso il punto e detto no ammettilo in italiano no sceglie una volta che c'è gioco in italiano no però in inglese è più bello da più sfizio eh si tutti i segni point indicano che ci sono dei strani tizi dei notizi malvagi che si che si sono rinchiusi nelle miniere oscure nelle miniere luccicanti si è vincente ehm ve lo vorrò per farmi scendere lì sotto e mentre un strano marchigegno è stato scoperto andate a investigare ehm e con il strano alcuni terbiati si sono barricati ehm le loro case meglio prepararsi per una buona battaglia comprate questi obiettivi in qualsiasi modo e maniera hai mai visto ok ragazzi vediamo cosa ci sono ma quindi cioè ognuno va per conto suo no bisogna andare tutti insieme allora tu quando quando uno un personaggio entra nella casella di un nemico ehm in un raggio di due caselle a meno che non c'è un nemicatore eh i tuoi persone tutti i nemici tutti i tuoi compagni entrano in combattimento per esempio in quell'ape lì sotto no? c'è tu ci vai dentro devi combattere contro l'ape e contro il falco perchè il nemico è in due caselle no? si però quello che dico io se siamo uno di qua uno di là combattere solo mi fanno nero si ti conviene aspettare che noi arriviamo in range quindi due caselle lontano dalla cosa però noi dobbiamo andare qua fondamentalmente accampamento del caos si lì a combattere oppure andare prima alla contraption va bene facciamo uno sconto con la pettina ok ok al momento ci sono le missioni da prendere c'è uno che riduce il caos c'è uno che ci da un item è un arco di vetro è un arco di vetro è un arco di vetro è orribile ok allora orton ci dà la missione ce l'ha già data e non ce ne da più poi c'è uno che ci dà 30 di gold e non ci vale la pena non so come come si distaccano le missioni no, le questine le questine nella città sono extra le compagnie a sinistra e io per muovermi perché a me mi da tutto rosso eh aspetta devi decidere vincenna questa poi tu stai eh sì sì prendo quella prendo quella che ci dà gold però sono solo 30 vabbè mi devi niente prendi quello che ti piace di più dai tanto qua dai tanto qua dai ragazzi sarebbe meglio prendere quella che vengono più il caos si vabbè no ma c'è già con l'option per il caos vabbè poi easy eh siamo in easy non ti può fare eh vabbè vabbè allora prendiamo prendiamo più più expo mercato notturno c'è pure mercato notturno c'è pure raccoglie questo oggetto lista provviste da mercato notturno consegnalo di pietro sì che è lì sopra un est concreto allora che si convergiamo verso l'apena oh oh ecco anche per me sarai due euro e chiuso però dove posso da sotto ma che per me devo fatto tutto il giro no ma chi è chiuso è chiuso eh punto dove ah beh passiò da sotto allora eh c'è una sola sola mi è passata sopra lui poi passata sotto lo stesso qui sono sempre andare prima al mercato notturno vai finito il turno in alto destra c'è il passo ah già ok nice bra bra ottimo d so di mercato notturno è chiuso di notte è detto bellissimo grazie you don't see 1 2 3 4 ok ci arrivi ok buona ok ok 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 no no non conviene facciamo un commentamento poi ci dividiamo un'ape un coro 1 vabbè è fatti qui ambosche mmm 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 potrebbe essere c'è il visivo quella è la scatta di un attacco giudicato ma perché sono così pochi anche per un boscato polis parto in moscata vabbè quattro anni giusto che sia l'armatura a pericolosi il punto forse è meglio non fare in boscata che su di andare fila vabbè intanto ce ne andacco anche alla cosa della setta qua si ah beh quindi bene o male eh devo andare io andrò di pietra perchè ce lo devo ricordere si c'hai tu un libro quindi allora mai ti guarda cosa appunto è quel punto esclamativo che punto interrogativo che potrebbe essere una prova di forza, una prova di intelligenza bisogna vedere e ah ma tanto tocca si si no per esempio io ho molta forza ma vincenza molta destrezza mentre tu mai ti hai un'intelligenza alta ah vado al punto si vai lì e vediamo cosa c'è se poi c'è una prova di forza la fai tu e poi ci torno io se invece una prova di intelligenza la fai tu se una prova di destrezza la fai vincenzo 4 nesto allora un vagabiondo seduto vicino al sentimento e servamente ti avvicini qualche moneta no per 40 ne vuole se è scemo oh c'è il santuario dell'immunità per velenare cure medizioni se non sbaglio una volta ieri quattro dovrebbe vedere il forzo se non sbaglio beh esco io no si si aspetta non gli posso da niente dai ritorno qua non c'è niente l'apre, non c'è niente schifo non c'è niente ciao facciamoci a metà c'è il suo di dc ci sono farlo un po' no m oppure al passo sotto e cimino verso no vediamo cosa tutto posso sempre tirarmi in caso tre corvi me vale la pena su me vale la pena si non ci sono problemi si si dobbiamo scettarli almeno vediamo se possiamo scettare almeno uno sperando e no ok te ma ti vedi come diventa una vecchina poi vedo anche i combattimenti basta via vai stacca domani no 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 se la base cavolo ok ok la formiglia ok so che su cui spittarci di io c'erano già un'altra posta ok la parte salve e la come arti tutto apposto allora sei riuscito a rimettere le mani sul computer? si no è che il mio padre mi ha rotto le palle ma nei coppi mi diceva se non li fai ti tolgo tutto ah beh è normale mi sono messo a fare i campi ok eccomi c'è la caverna ma tu tagli esci anche no grazie ok e se avessi fatto lenta con il gruppo te l'hai scaricato questo arte no? vediamo shottati male esatto ci si integrati dove vado? dove vado? dove vado? passo da sopra che prendiamo l'artefatto poi gli proviamo a battere sì sopra vabbè io me ne vado lavorare al server vabbè artio ma io smart schifizzato vero 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 curiosità che serve serve minecraft ok n n n n n n n ma è chiaro ci vicino sopra aspettiamo che visto che dicevo vola c'è sempre cinque momenti prende e torna inglese sono soltanto devo passare scusate sono soltanto io ok io niente io aspetto recupero a capire non sono in range per il combattimento di una maledettura ok io tanto vado a congegno 4 oh no che palla cos'è? è un piccolo boss semmi normale si mi posso ok questo vuole forza vabbè non male si dai 8892 ok dimmiiamo il prossimo caos che arriverà dato si vogliamo il caos dai e niente adesso ci io o andiamo via o vogliamo oppure attacchiamo no facciamo 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 3 ottimo lavoro la prossima la prossima la 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 l aiberi ranger adotane d'attivare anche la se attacco attenti scuola se non ci arriva al sol spalla su su tu e paikman stusso tu sei il primo co da allora il casmo fra contene così dai aspettiamo si si passa e la carina carina che sprecco la nostra sede fuori al capino per i miei e già abitini forno 4 4 ok ottimo posso provare a fare un'imposcata me ne ho piaciuto non batteremo bene no, basso, mi fa l'imposcata allora i danni sono veramente pochi ok mai finisci andy's life allora faccio concentrazione no, no, no ah una cosa vedi che tu si trattolome hai quei puntini gialli no fox point io? si vedi, 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 sulle prove di forze, sulle prove sulle prove e sui attacchi puoi usarli uno, due o tre o tu, cioè un po' per migliorare i tuoi danni e come li migliori? e cioè come li usano? cioè tu sull'icona dell'attacco fai tasto destro e compari su focus, no? ah ti migliori i danni cioè ti migliora la possibilità di colpire perchè funziona così per ogni slot tu tiri per una percentuale la tuttora è piena dall'autocaratteristica ovviamente ehm però sui focus togli uno slot cioè quello slot è assicurato 100% quindi non è che ti tiri tre volte ah, ho capito questa cosa che non l'ho capito lo tiri solo due volte 7% e comunque quando c'era un ferito è sempre meglio concludere così si prendevano meno da anni infatti ho preso 10 anni in più eh, quello esagerato 3 cioè tutti e tre non serviva è uno spreco vabbè tanto a fine cosa le ricaricano no le ricarichi o tutt'un abilità che a fine turno quando passi potresti ricaricarli uno o è riposando quindi non conviene usare infatti ritorno questa cosa non l'ho capito ogni volta che passa si che passa il turno dividiamo buono cosa inutile direi progettari riscolti si arriva mai l'altra volta esatto si arriva anche l'altra volta 2 ma basta ahahah c'è 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 l'unica che non abbiamo presa scelta l'altra volta niente 0 0 flutti c'erano con lo scauso base che non facevo niente ahahah quando abbiamo il master che prendiamo qui scossa vabbè si è quella l'arma l'era buona almeno ma si può vendere la storia un po' poi una cosa vedi che sotto al tuo nome c'è la pipe level c'è tipo quelle piccole pipano ecco i segni nelle donne mercati in telecomperi di quella di velo superiore tutte le ere e tutte le cure hanno un bonus c'è da farlo più hanno più effetto ok andiamo sotto a fare il commettimento sotto allora si 4 buono c'è un merlinger te ne ricordi quale lo sputacchione? ah si sta a me? si 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 muove da un posto dove andiamo? boh giù giù destra destra dobbiamo incamminarci verso il commettimento a destra passiamo per i warlock per i timber wolf ah i warlock mi amico mi auguro fai l'orto successo vai nice vediamo un po' cos'è quella cosa lì eh mi sa che per te è questa non so è per artio si si c'ha c'è l'occhiello c'è l'occhio per te e l'occhio per cosa sarebbe l'occhio? e' il tipo di prova e' il tipo di prova e' l'occhio tipo l'intelligenza cosa è? ehm ma bella o' così dice e' per effettivamente sveglitudine 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 ehm beh 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 si appunto è la tua caratteristica con due cubi di danni sveglitudine vanno mai chi vola no vado avvicino al tendone no 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 tanto me sono 5 d'anni sono 5 d'anni ok dove riuscire finito un anno stavano le caratteristiche c'è che in questo momento era valido non me li ha ricaricati e mannetto non è sempre in realtà allora no io sto più da me buona sciamata no finitolo aprile di qualestra soprannome aveva 1 in viola up e unico e quella classe amatura certo i detti dai animali c prende meno 1 anche da te ne ho delle idee di stanzione adatta c'è a pia c'hai 2 2 23 di schivata morta amara la cagnone scusa di noi giusto i piedi due per il mio lavoro e due ok c'è anzi è stato giusto 4 nuovo qui no fred amore la storia la storia la storia aspetti è la rivina e qui il casco il mondo è un altro scuso c'è c'è per ma vuoi prendere un po' di alber come faccio a doverne 3? non avevo preso quell'altra e l'ho passata io una si una di base una abbiamo di base tutti eh ma è semplice però adesso bisogna spettare niente speriamo speriamo ehm sottoli sotto sotto accampamento delle cascidi ti credi che c'era quelli di quadrettini con questo motivo no? no niente passa passare sale e passa così ti resti fare l'esperienza oh santo ma la purificazione con il mio ah eccolo ho esilio in tic quesimi eh me lo succede l'avrei voluto io altra volta eh ma c'è stata una cosa durante la guerra era buona però ho trovato il senso di cittadini e poi con quello posso usare il fior di loto sempre un po' o guarda blocchiamo blocchiamo lui lo scuolo scosso perchè ci sono due quindi blocchiamo figlio finisimo ieri no ok posso solo via campomettino ok sono due non tre poi si avvicini quanti si deve essere vero considerata di unirvi a voi invece di combatterci ok vedi quella destra c'è la classe cultura i conti genitici quindi a me non come attaccarlo il mago di vici a parlo però sia lui che praticamente si è allora facciamo così che cazzo vabbè vabbè va bene questo non va bene questo è già me già me non bene però vabbè nooo ma quello li è per eh vabbè potremmo usare un tinder punch si è morto si è morto ok ok si 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 buono 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 sì si equipaggio già ehm non ti conviene prendere una torcia perchè faccio c'è già ho l'attacco supercaricata ma c'è 26 danni me lo tengo te la passo te che poi vedi tutto tu va bene tu sei ti rimpiemo di oggetti grazie sono il contabile che non è un contabile c'è l'altro tempio c'è l'altro tempio c'è l'altro tempio c'è l'altro tempio 10 critico 10 critico forse c'è meglio per avio che c'è l'arco dovete far comodo ovviamente si ok allora passiamo da sotto e arriviamo si si tranquillamente eh i tinger tipo come si chiama l'accampamento come funziona nel mondo sopra vabbè c'è la tenda nel mondo sopra come funziona funziona che l'accampamento l'accampamento e quando di qualsiasi le città ricaricati solamente che non costa niente non costa niente ah però singolo non è per tutti i compagni si ma se no 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 rimane per un bel corretore ehm si rimane tipo da ora fino alla ferro no si potrebbe stare spiazzarne uno vabbè vediamo che è che ha sito avvio l'accampamento per ieri per fare la famiglia che è un'altra con la missione scontamente diversa e purtroppo certificato di morte che bella è un buono per me tutto on touch il santuario e non è solo il wear force pano nemmo la pianta passiamo un posto trasportare è in alto a destra però non sono in tempi che si vede ma c'è una caverna dove la vera livello che per lo sarà un nuovo e' una altra spazio il pane per testo ci sono stissime fermo qua inizio ma capi scuote la data verona per me una carta c'è il siti si simone il tuo lavoro per quanto tempo per sempre ok ma c'è un po' questo le maledizioni si che si possa tancare male male 4 ci si arriva per fare l'energia che serve sempre buono non so cosa sia dub for the life dub for the life scuola il barbolo ok grazie lo si è per il mago un altro modo poi c'è c'è questo ci sta città ma io credo che molti retiato carlo verso il lupo min bussia c'è un tempio oh il tempio so c'è il tempio per te no vai verso il tempio ce n'è uno lì a destra e tu e tu ti serve a te questo cosa fa due concentrazioni massime che buono per il mago è buono la notte è blu questa parere è notte il progetto la notte è buio l'errore niente io o vai mi dici ci facciamo il miniere lu il lupo e miniera si ma deve arrivare a un punto il tuo 4 lupo dai in caso l'errore 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 perchè sono 4 movimento a di notte giusto l'errore penso l'errore perché 0 per lascia giusto l'età a forza il v la 3 3 4 3 3 6 no non si può soggiorare si le concentrazioni e muovere verso la miniera la miniera no mi pare se la miniera scintillata eeeh c'è quella sinistra quello due giusto possiamo anche attaccare al fantasma non aveva mai alcuna missione una site quest sono niente ma però ci abbiamo commissione mirofo ma anche se fosse merdax e che la livella limone tasso già potremmo anche fare a farci aproponare a casa dell'avventurio per quella ma io in fase all'inizio si è certo se non fa si è scelta si è scelta c'è una cosa andiamo come andare l'arcere di viato magari che si è scelta l'arcere di viato puoi rinno si è scelta e che si è scelta no 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 dobbiamo fare dobbiamo fare subito di un pochino 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 mi 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 divertente divertente spessimo da sopra sbattiamo qualche c'è l'accampamento di c'è l'accampamento ma andiamo di brutta miniera no fantasmina no no il fantasmino un altro polto la città c'è una idea di un altro la mia mi piace qui e abbiamo anche il tinder da un sito il passo ma facciamo fight e non lo do come no cosa dobbiamo essere tutti dentro no no tt regrupo Ah, non mi andrò a fare Anche se è l'altra parte del mondo Ok Allora No, vabbè, è tasso Io meno il guerriero goblin, che è meglio No, mamma Per uccidere lo scemano Quanti danni fai? Quanti danni fai? Dai, nove No, diciamo un po' Sì, sì, metti un po' Boh, sì, dai No, no No, no No Davvero Che qual'era la percentuale per quella cosa? 20 Madonna, hai le certe smature, vero? Tu, tu, passi di armor, vero, se fai perfetto Sì No, solo in te con l'altro Ok Ok Lassi, ve l'ho pronto Ah, ti scelgoi Grazie, non lo guardo Sì, sì Sì, sì Sì, sì No, niente, però Mi saremmo dovuto andare da cittadina vera, però Eh, ebbene, è semplice, se l'altra volta non l'abbiamo potuto farlo, vediamo scattato alla seconda stanza Ho più illusione di tutti, quindi c'erbio da io Ero mille, sai Una volta l'ho trovato un mille, che è stato brutissimo Sì, anche io, ero 4 Eh, io non la voglio Non faccio niente Dai, non ti serve Ma se, non so, se non ti serve E' la siena Ok Meno uno spin Eh, sì, lo tengo io, dai Ho avuto scudo Lo scudo, sai Non posso tenerlo No, vendilo, vendilo, vendilo Tanto la luce Non c'era contabile, dai Ok No, borsaiolo Non c'era il borsaiolo per primo Borsaiolo A morte il borsaiolo Che rubasagli questo Sì Sì Ah, volevi? Nice touch La borsaiolo la vado? Sì, sì, adesso è possibile Sì, morì, buon No, vabbè Sì, morì, morì, morì No, no, c'è, lo fallo tu Io ho preso la stessa La più vita No, è un messo, è un messo No, è un messo Sì, se lo prendo con tutto Però Ah, non usare i focus Non serve Eh, vabbè, vabbè In due, dai, ce la facciamo Ci, forse ce la possiamo fare Sì, sì, è dettibile Forse ce la possiamo fare, non ce la Hai, sì È vero Regalata È stata smutata l'istar È vero La vecchia volta che ho parlato a S.C.S. Eh, questa è dall'Ansia Ranger Insomma Che vuole? Fai passo io di fare passo se c'è molto di meglio fare butti via c'è guarda la pace 4 4 scuola di più con gli stanzi sono adesso uno altro due poi il gelesso sociale mi dava la stanza insieme questa è fortuna la c'è la pianta teario forse me si hanno anche pronto ma è che c'è altri 307 per ora il problema è che quello è per cercare di disarmarla il successo è bassissimo non può mettere focus allora passa la ma è in attesa dove si possono mettere solo che non ne ho 30 32 dai buon 32 è onesto provo io si dai prova quella di disarmarla ma senza perché se passi passi solo tu do bisogna farlo tutti mentre a me è più conveniente fare così però lo sai che ero 15 per 100 giusto no è 32 c'era più alto no ah l'attacca come le danni fisici si si è 4 si è 4 si è 4 no oppure sull'accolito però l'accolito cioè lo shop potrebbe riuscire a uccidere quello è più comodo perché tu non riuscireste a uccidere ma tu non riusciresti a uccidere ma tu non riusciresti a uccidere nooo madonna e botta vabbè si dopo ci si cura dai oh bello oh questo o dallo al primo teatro equipaggelo così c'è e tu 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 prendi tutto loro tu per questo io e poi ci dividiamo capito mai bisogno tutto l'ora da via perché c'è 10 tipi di oro che prende si è veramente no non mi so curato se qui ci vediamo qua adesso tipo eh partire struso io non so se vale erbe come si come vale per quanto erbe c'era solo 15 no 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 ok vai così meglio così ok metto pronto no sì sì ma quante stanzi sono due livelli due livelli ma perchè siamo in corpo c'è da tanti livelli così no è sempre così no è sempre così 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 lo finisco dopo anzi no ma no lo so forse mai ti conviene focussati sul buon tricket sul quello di destra così forse riusci a uccidere il cosa? chi è? mmm sì è quello più debole questo qua? no d ahahah ce l'abbiamo ah lì no no l'ho potuto l'attacco le 26 l'avevi potuto provare no ma lì pertanto è sfuggente eh ma se facevo tutti i si se facevo tutti i cosi no 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 andate tutti e due su voi di destra vabbè si c'è pochi danni io eh vabbè tra il fuoco e un'altra sfrizzata di quello dov'essere morto buono ok ragazzi tonk ma appena otto anche lui eh yolo? no peccato no ma schivarmi tonk vediamo se lo killo no? vediamo se lo killo no? da lo a me questo passale passale dai ancora basta ahahah 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 se ricassi piangendo non lo voglio si sta piangendo ma ritengo come ricordo ahahah ahahah cosa brutta ah tanto male usare la rap si sta piangendo si sta piangendo ancora pochissimo quelle quindici eh eh basta a questi ahahah donk basta ehm 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 vado sull'impo no vai su guerriero no no ah no con l'imp si è giusto aggiorno vado vado 10 aia maledetta botta fatto eh faccio generale eh vado 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 un po' vado 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 in vado vado mincea 1 curati curati ehm credo in te mighty e ahahah 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 unico ne pensi due in più questo raccoglio due permanente delusione ehm si dai per il piede via o finalmente a due mani ho rispetto a cui erano ma una sola mano il tempo scudo che lo scudo c'è uno scudo brocchio di legno ok perchè non è il massimo perchè faccio molte molti più danni con a due mani se mi ricordo male fa un po' vedere ah no niente posso non si è notato ma di sto mercato che faccio? boh non c'è questo cosa di buono è la barba divina radice d'oro erba studioso ah questa è la piappangia oh ciabatte kirbe sono buone le ciabatte si hanno tre d'armatura eh però sono le ciabatte sono buone si è veramente buono è una vecchia spada ma ognuno ma vuoi stare nello shoto giusto? è un unico è un unico ok ma per me non ce n'è una secchia cappella del viaggiatore no ma non conviene costo molto costo molto più di ah infatti ho spettato prendere la barba l'erba dove mi sembra te un'arte vabbè mmm fa niente no ha passato io posso ah c'è poi no è più che tu almeno cioè c'è andando a battere le ciabatte eh l'ho mai visto no prego le ciabatte prego nostro carissimo chi chi deve fare? io dovrei avere solo una cosa va perchè ho l'abilità per puttar giù le porte vai mi fate uno solo mi sfondo le porte allora c'è il post ok la sacerdotessa del caos nessuno saprà cosa è successo qui sotto stante avete fallito nella vostra miserabile missione calma eh che facciamo fuoco siamo una sacerdotessa eh tanto vuoi ammazzare prima dei piccoli se no ci iniziano a fare dato intanto massimo cuore a destra che dovrebbero se no il quale onesto anesto si fa e che palle porca puttana c c c c c'è un po' carino no no vabbè davvero ha portato sfigata l'arma nuova allora l'erba l'erba divina barba divina no? l'erba 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 un altro fotografare arpa po dov'è cambiare l'arma monton insieme se non muori per il tempio in quello sarete voi una no un un'erba peccurale anche dai eh si muoio orato piglia piglia buono per un aspetto passiamo per le trenti. sono un muro e e e e e e la storia armo resiste se vedi o meno per talent testi talent per me si dopo tu hai detto che si fa il campo il campo di campo posso lo o un posto scolta mago armatura ok grazie atti passare il gestito vendere questo momento ma io e da vendere c'è solo gli utero perchè hai il coraggio? intanto non è la firame in principale è la passata, ce l'avete una cura in più? non ce l'ho più ma la menu speed mi senso che faccio uno... ah no ok ok niente posto ok grazie posto vieni tutto mi chiamavano mattone mi chiamavano mattone aspetta se ti ricordi quando ti ho usato? no sta zitto ma mai ti fanno te con il focus cos'è sta no? utilizza il flash? eeeh eeeh e tipo quello che genera il caos e non me lo fa usare la concentrazione si forse a secondo giro allora non è colpa di disabilità? si si ecco fallito non me lo fa usare vabbè ritengo non mi va facciamo vabbè ok 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 cavolo si è anche altro che posso no non si è infatti anch'io credo che io ciò devo spostarvi la roba e sud e non ora la città nord se mi sgancio un po' di suddini mi componebbe mi faccio la pipa e riporto se quindi marrano marrano quella voce ok vogliamo fare la sala del site quest ogni un diritto è sbloccato parigi per questo è quattro città ci fermiamo amassi che c'è prima questa ma se facciamo una tendina no no si c'è devo fare e passami dieci monete a l'uomo 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 no 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 e sinistra siamo dalla parte su usa concentrazione vado letargia buono eeeh niente passo c'è sempre il vento addosso no è che il tunnel è tutto smizzato ok ok no ha cominciato a mati 10 euro please davvero? boh ok strano 10 euro please grazie va in città? 10 10 sono sufficiente mercato voi lo vedete il mercato? no allora pipa in legno barba di vina radice d'oro tormento della magera erba studioso per camela randello grezzo bastone fulmine questo potrebbe essere utile per me esplosione elettrica barriera ma il libro il libro è già abbastanza forte non ti conviene usarlo poi c'è il libro è un polverato fa un 9 di danno è ondata esplosione dell'aria protegge ma insomma ti conviene prendi la pipa prendi un'altra erba un'altra barba e riposi al mercato alla locanda così ti rifuli avranno una pipa? si prendi la pipa migliorata così le erbe hanno più effetto e poi prendo ah erba per rigenerare 30 piastre esatto sono i due e riposati al al colpo e poi riposati nella taverna ma devo far servizi per riposare? si esatto servizi guaritore e però mi sembra no a taverna è meglio ti da anche il full focus back non ne so come non hai soldi ah ho preso la pipa vabbè vabbè me la serviremo noi ok la pipa è consumabile? no in più e Pablo non te che ce l'hai ce l'hai quanto costa il mercato? 8 ok posso aiuto uff non si torna indietro vaga aiuto lo dovrei torniamo indietro ho paura però è quella vera no no mercato la per vendere basta mandare giusto e riuscire e riuscire anche i piccoli uti si tratta pochissimo ma le tagli dopo dai una ventinaia in mente amati e in cinque me così prendiamo delle altre erbe ok ok tipo in legno esatto allora adesso lascio per voi quello con più mano guarda gli piccoli uti ok lo andiamo da anche parte per trovare una l'uomo ok ehm 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 giusto è che quello che si è scelta un'altra volta ehm 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 ok 2 vabbè va adesso metti riposo ti imporso si ti pistrellino si tanto semi range ok ottimo e niente una volta avremo uccide il pistello ora 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 niente cosa è la flittorina perchè non me lo fa ma devi dire tu 2 3 4 4 6 3 4 io ti blocco il 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 12 11 11 12 11 11 13 12 13 14 15 15 15 15 15 per me per papà lib c'è un'altra risposta poi amante ma ti sei mai detto se la città molto penalizzato ma non va di è nato da solo dopo un po non mi riesce a rimanere ma per esempio parigi c'è una ma mance del giovello si è per il nostro amico del nostro amico destro orso che giro ha fatto lei? ah ok si si giusto giusto vado da stegare a giovane? no no mai ti ti sciotta ma che mi sciotta? vuoi vedere che non hai una stregagione ma sono di buono ma io sono una bestia mi sciotta allora vabbè se vogliamo fare questo momento che mi fermo qui qui sono il mio range un'altra miniera? no no è vuota eh quella di prima questa si no buono si 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 ma in areia pi-12 comunque sì si 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 ma in areia pi-12 comunque la cicciola della viva scusate onesto jones hai mai ah che famo si dai non possiamo farlo imbuscata? no no sgattogliavata? no no attacco attacco un batto? attacco in fita squat e' un po' imbarazzante è un po' imbarazzante abbiamo parlato ma basta mi hai detto mi sono 24 danni si vorrei quella sinistra ah è ancora quella macchina ah ah giusto però l'arco però lo scudo mi piace mi dà 3 armatura cioè tu hai sette le vitture e basta io ne ho 3 e lo vado esatto non è giusto sono intracciato hai dato un'azione come te well it's time to me to mine ah il cg2 eh lest eh altro passo ma che storia sto scrivendo? 3 talento no no allora prendo io 4 danni dove vai ti? vai 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 ah beh ah beh non c'è più ammissione alla città ok posto passi il volcano dei sciamani c'è pa No, niente. Ah, guarda, è arrivato il mio uomo. Dove è il mio uomo? La tana del mio uomo. È l'altra parte, ciao. Cosa ci fa l'ognomo quando arriva? Vedi che è comparso l'ognomo in alto. Però la sua tana è tipo in fondo a sinistra. Quindi Lucky Vault. In alto, nella timeline, c'è l'ognomo. E la sua base è questa qui a sinistra. È a sinistra, accanto all'inizio. Ah, beh, sì. Ci scaglie tipo maledizioni. Sì, dovevo usare un portale per tornare in dietro. Ma non lo adesso. Vedi, si muova. Si muova, si muova. Ok, ci sta. Sì, è un estro. Quanta armatura? È zero, ok. È morto. È morto. Aspetta, aspetta. Hai parlato? 8 danni ce n' sono niente. 8 danni. Ma che c'è? no ma solo schifo il caldo 4 ok faccio il mandito il lupo con cosa c'è per primo rilascio ventrani mi piacerebbe fare la grottisciere non è un troppo anche per noi mi dai disi troppo volto prendere 5 dai ahahah ok è uguale ok beh l'uccidiamo ok e vai per strutturare il bambino ok no mi spiace la venturina è finita ma ce l'hai in testa ce l'hai in testo letteralmente si io vedo che ce l'hai in testa il bambino mi si ok 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 la venta no per quel giorno c'è sempre stato il contesto in un'esterno staglia è una bella finalizzanti incontri non oltre il carico un po' di capito e non posso un passo un po' spassare s buona c'è l'accampamento un po' l'insidus l'acqua 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 il primo come comparo un'altra coseno 2 e te ti comieni comparte un'altra erba del focus e te no, non ti serve te comieni riposare alla pari vieni correre tanto non ci sono altri nemici in zona nice, no non ci arrivo vogliamo fare già adesso il bisognolo d'auro o? l'accampamento? no smestata ci guardo giusto quanti sono uno solo livello 2 mi piace fare giusto che non abiterità un solo a lo faccio se ho visto se poto contarlo era ah, io ho il tuo caso no ok non possiamo più farlo perché la fa adesso perché adesso è impossibile trovo aspetta o te, quindi fare una moscata perchè se vedi moscata rimanessa parto da gruppo ah, dovrebbe essere una buona idea allora vediamo l'ora vai curati ma, no, aspetta da curare vediamo un po' che c'è io sono venuta a parigi, io sono Triapallor, prima supervisione della regina Rosmorti in questo mondo eh, Rosmorti andrei a parlo andrei a parlo andrei a parlo per me ci puoi andare prima dalla vabbè dipende dipende quanto tempo ci manca per prima della della mia mamma l'ha detto andiamo con frammenti per la cantina dimenticata no, tutto ma non è la cantina dimenticata che io mi spalorai eh, è andata semplice il mercato mi sta a me no, sta sempre a lui che sta shoppando con i suoi 80 coin una torcia grande no, non la voglio, brutto arco composito che me lo prendo si, si, quanto fa? fa 11 anni e... qual'abilità? qual'abilità? la mia mamma mi dà più quarta delusione che il mio mi dà più tre e la più venti danno contribuanti ah, ok e invece di perforare l'armatura fa attacco di gruppo quindi tutti i temici vabbè ci puo stare di resto non c'è nient'altro missioni non è niente vabbè missioni non è niente quindi ci sono riduci caos ma spesi che è forse quello non è niente ma nono sono sicuro bisogna uccidere nessuno l'unico modo per toglierlo è nel suo rimuovere il suo suo spawn che è a sinistra a sinistra vedi l'accavolta quello lì o di tu le il caos che inutile quindi ce ne frega quindi lo escludiamo cioè ottene 77 di oro o o andare a prendere una taglia quindi uccide il bardo d'ossa l'arco l'arco il processo sarò prima di comparare l'altro vabbè no migliorò allo st si non lo si d'oro la la parola 5 con l'oro ichi ora provo a fare l'imbosca da bison tauro no mai si deve cularti ah ok passa 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 oppure vuoi quel fox indietro anche per il focus no asecoso dopo di comprare delle erbe passano uti o due magari per il problema sta maledizione ma ti fai un focus anche fino a una cosa di distanza funziona e se per arrivare in città matti se fai testo destro consumi un focus e guardi ogni movimento quindi ci puoi arrivare no, uno solo, non lo so quanto costava più migliorato qui costa 7 a me mi da 88 no, troppo 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 qual è per le varie cose un po' forse il tempio le maledizioni si si troppo 7 ps ecco maledizione questa qua 26 madonna quanto costa ma però ecco il tomo congelato sarebbe figo 12 danni magici però costa un botto no, non ho i soldi per farlo purtroppo costa 50 ma ma sono le armi basi che fanno schifo per il resto va bene ah però scusate il talismano immunità alle maledizioni buono questo era buono vabbè dormo 10 costa di più qui io posso aspetta è uno solo si allora cambio armi no aspetta il bisottavolo deve dire che il 5 ma se li fai in moscata no se li fai in moscata no si li fai in moscata che tu c'hai il successo il successo del genere c'è un focus siamo posto posto dovrebbe essere dovrebbe essere infatti da solo buono buono onesto nonostante non ho mai testato tanto di quel focus che non ho mai testato ma faccio poco d'anni per questa diminuzione velocità può fare basse se dimmi c'è bellissimo perchè lo scoprò io ahahah ahahah ma di tanto ma di tanto questo è un tiro ma di tanto mi piace solo che guarda quante che ti fai eh che c'è la sommatura che non ti potrebbe fare scuola ma come tipo colpo che quello che si è per il fuoco come sempre sono un po costruzano forse su quell'altro è perché quando cammini quando cammini cursore titoli usa adesso lo tipo 2 2 a a m posso il quinto nome non c'è un minuto del bosco resistenza 4 la natura resistenza che vuole passo passo ok ora posso tancare non è stato ok possiamo provare a volare o tre non so quando ci convenga da rios molti altri scopri aiutti sarebbe ma che livello siamo? 3 3 2 ah c'è scritto si ma bene tanto cosa ma che adesso noi nei rinchi mici quindi poi aspettiamo di passare non sta a me muoviti in giugno il mio nome sul campo o verso il gioco io lo aspettiamo ma l'accampamento gli stacoli no su purtroppo e sono fuori forse no no c'è come con il racconto che renderebbe busta fare l'armatura ok buono le fumo marketing del fuoco 2 ma se fosse sicuro non penso non schifo dai si si fatte un si normale il ranger come avvenire in classe e per separare i boss un altre versione a ma anche tecchia e l'armatura non c'è quella che è mandato neanche questo è meglio sicuramente scendiamo verso la pesca simon ciao primo ero simolimo ciao simolimo si si mi ricordo è carino sto gioco qua è gratuito su epic game quindi se ti interessa è carino anche la cop stiamo giocando in cop ognuno ha il suo personaggio però lo puoi giocare anche da single player utilizzando tutti e tre i personaggi è carino è abbastanza strategico pure poi è gratuito ragazzi se non si rifiuta mai che sta comunque va bene io non so quando pitti per non sapare un posto fare il sottaggio automatico a fine a fine a fine turno no te te no termina il turno prima termina il turno perchè così si ha passato al salvare il commettimento ok adesso adesso persa da 10 12 12 12 12 quindi lui è rimasto ugualmente 12 12 12 12 12 12 aspetta 12 12 12 13 12 13 16 si è chiuso? ma chi è che a sbataggio quindi 18 appena dice Pablo Ricco se disconnesso si perchè esatto c'era io il Speyman mi spiegare davvero carica sì va bene grazie per ora ciao 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 ma dice il save però quindi cosa devo voglio niente ci vuole un altro giocatore ci vuole se non è che altri ce l'aveva bus che viene però non so se adesso si ce l'ho il sottaggio ma spero di poterlo passare in qualche modo no non penso no non credo penso ti resta a te vabbè ma se io sono da solo lo gioco da solo si c'è inutile che ce l'abbia se anche teceri giorni allora io ho il copso abbataggio la mia partita e basta ma sento perchè mi sembra di laddano no ma per esempio i due personaggi soli no bisogna essere oddio si però sarebbe molto difficile si ma il gioco non ti calcola che siete in due no allora lo proviamo vediamo com'è in due proviamo vabbè tanto sabotaggiano in caso no è vero è automatico questo lo lasci o ne fai un'altra ah un altro o se no lo faccio io in coppa in due fallo tu dai ok allora faccio coppola giusto si metti sicuramente corso online no 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 aspetta qui ti ti dà no devi fare new game nuova partita preaffa un altro un altro diverso non so ah beh si va a fare qualcosa della neve allo stesso di secondo dai va bene avanzata nel sotterraneo avventura nel gelo no forse quello nella neve frost adventure facciamo questo apprendista ma ti ha giocato hai giocato in medio quella del secondo così si in due in medio sei matto si distruggiamo o ci distruggono no o ci distruggono o li distruggiamo se parte e siamo già due anche sia Q online giusto Q online ti metti un nome che la pasta ma anche io non finisco da e la pasta e la pasta eh tanto non osserva perchè mi introno mi devo unire da discord in ogni caso poi per la partita ecco alle sono su ecco adesso di venire da discord nella chat di tuo canale e su più ti dovrebbe aggiungere un un play sul più mi mette se voglio caricare un'immagine mmm ok allora devi chiudere e riprire il gioco perchè non ti legge l'unico modo per unirmi perchè c'è scritto che a volte sei da questa è la prima volta che l'ha aperto e non è ancora chiuso vero cosa? il gioco l'hai scaricato e l'hai aperto no ma io ci ho già giocato eh ah allora no dovevo comparirti vai clicca in basso a destra su quella basso a destra cioè se cliccio il più mi cerca per caricare le immagini strano al contesto destro non mi da niente non mi da niente se ne ho folla teo tanto ti farà un altro salvataggio no? ah si si te ne farà un altro ok chiamalo magari in maniera diversa così non ti sbagli si ma il nome non compare nella cosa però compare i sei giocatori quindi si vede ok infatti a me quando lo creo mi dimmi partire la cosa mi ci compare il più ok se no forse si 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 questo? si è l'ultimo più recentemente se no non hai chiuso quasi quasi ora che ci ho messo dovrei andare cosa mi fai se ti andate ne faccio un solitario ins estouy no ci sono problemi ehogast vado a prendere un po' di sole ehogastис ehg ciao ciao enjoy allora così facciamo una in solitario allora io le avevo già provate un paio di partite però magari le cominciamo dall'inizio facciamo questa qui per il gelo che non l'ho mai provata però nuova partita avventura in solitario apprendista ok eh Artio ma te ti laggava no ma si un po' mi laggava ma non è che ci laggava chissà quanto che non riuscì a giocare io ieri ci ho giocato un po' ma vuoi provare a fare una coppa? se vuoi certo aspetta me lo avvio perchè la coppia qui sarebbe da 3 proviamo in 2 se non è troppo difficile e Pablo è andato via adesso ah ok io ho appena finito di fare a parte alcune cose nel server ho anche finito di fare italiano perchè ho studiato quindi com'è andato il server fatto così buone? sto un po' migliorando perchè il problema non è il fare le modalità il problema è migliorare e fare le cose bene per la hub la hub è proprio la cosa più importante quindi sto facendo bene la hub così vabbè ho piano piano poi ti dico ho già fatto molti progressi in questi 5 giorni che mi potevano servire anche forse mesi prima che riuscivo a farlo se non sapessi fare queste cose poi lo faccio da tanto nel senso uno si può anche partire che non è completissimo e poi uno piano piano aggiunge anche le cose ah no ma infatti ma io piano piano sto già aggiungendo alcune modalità per cui si potrà già piano piano forse anche iniziare per poi durante tutto il processo piano piano che uno lo porta avanti anche mentre è aperto ah ma guarda conosco molti server che durante la sua apertura anche di 100 persone comunque lo portano avanti e allora come si gioca in cop allora qui si ti hai già aperto il gioco? si si sono già qua allora c'è da fare cop online aspetta un attimo che abbasso un attimo l'audio si abbasso che è alto anzi nemmeno nuova partita sono già sbagliato l'unica cosa che vedi pablo ricco mandava l'invito su discord a me non riesce a mandare l'invito su discord no? no perché lui cliccava sul più a me se io se clicco sul più mi da l'immagine da incollare la copia incollare ah ok quindi non so lui non so dirti sinceramente cioè non ho ancora testato questa cosa abbassato abbassato l'audio allora si ho abbassato l'audio adesso sto un attimo impostando delle cose che così non mi lagga proprio abbassando un po' magari si credo anche impostarlo così quindi è un po' più eh così 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 ok allora allora devi fare nuova partita faccio new game o? si poi c'è anche l'italiano ma se lo mette in italiano ah ok allora aspetta solo avventura online cop metto vedi? no devi fare nuova partita ok poi dopo in nuova partita c'è la facciamo magari l'avventura del gelo così lo provo quindi che è il secondo quindi frost ha il secondo trucco perfetto poi difficoltà apprendista va bene e la modalità gioco metti cop online quindi localcop perchè io ce l'ho in inglese no no cop online non localcop ah ok localcop ok cop online poi fai crea partita e poi mi devi invitare ah perchè posso anche mettere un game name lo chiamo si come lo chiamo? si chiamolo artio eh artio e mighty poi metteci un secondo pass magari ci metti che so twitch artio e mighty come password si poi te la te la dica aspetta no vabbè intanto siamo metti twitch e buonanotte dai ok metto cioè no ho messo 1 2 3 4 no e dove facciamo dove facciamo i server in europa 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 ok ok e poi basta devo crearlo per poi invitarti si però devi stare lì non devi non devi fare procedi eh perchè sennò entri già da te ok ehm poi l'invito o mi inviti da steam oppure da disco non lo allora mettiamo apprendista perché così ok perfetto allora faccio create game però non fare procedi eh devi stare nella finestrella eccolo qua perfetto non procede devo fare ehm dovrebbe essere vediamo dove lo trovo no no ok ah chat dove sta il live eccolo qua invita tramite discord l'hai trovato? io no ma invita penso che invita nel canale capito te sei andato nelle ok aspetta no credo di aver capito eccolo qua ah eccolo qua vediamo se ti arriva ok ti ho invitato ma da dove? da steam? no no da direttamente di ah è arrivato bravo non è difficile cioè io ho cliccato più e c'è scritto invita qualcuno eh invece a me non me lo fa cosa che crescono mai non lo so sai? mi dice mi dice file di authentication mhm strano aspetta che provo non è che devi mettere tipo un codice o c'è la password quindi uno due due tre quattro no perché prima non ho messo niente che strano io lo sto facendo ah ecco ti ti sei entrato ti sei unito vai ora fai i procedi procede sta andando? credo di si ok allora ne possiamo scegliere credo due perchè siamo in due uè 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 ah ciao chi è? ciao ciao allora com'è ma cacchio? me da cavo si sopravvive ok aspetta mighty ok ci sono eeeh non si può fare altro ready? no puoi sceglielo vedi che sotto c'è la linguettina puoi scegliere te hai già messo pronto si si no 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 ho quel cacciatore eh si si a me va bene eeeh eeeh ci vuole la terza persona ma non ma la terza persona non ce l'abbiamo vediamo se è parte in due devo scaricarlo anche io ford si carino si può andare si può andare guarda è iniziato scaricale così si si può fuori il cop in tre infatti quindi possiamo giocare insieme allora eeeh ok ma allora un altro cacciatore dei tesori diretta a Frostbite Peak al nord beh ho delle brutte notizie la gilla degli stivatori non è stata pagata e ha chiuso i porti per restare qui finchè non risolvono il problema e sti cazzi tu che stai facendo ah si tu che stai muovendo tutto eh infatti dicevo che non riuscivo a fare niente io si guardazzi che abbia bevuto qualche bulo di farul di troppo ieri sera e ho smarrito i libri mastri che ci servivano per pagarli ho bisogno che tu ho bisogno che tu ripercorra i miei passi e trovi quei libri mastri bisogna trovare dei libri ricordo vagamente di aver giocato a carta con dei ragazzi che avevano accenti buffi obiettivi trova la taverna e la foresta guardiana e risolvi il problema c'è una bella donna che mi sussurrava dolci sciocchezza all'orecchio come si chiamava obiettivi alla missione trova la gara terminata e la foresta guardiana e risolvi il problema credo che io e il fratello della regina stessimo facendo testa a coda a non finire nel bosco non ricordo cosa sia successo dopo trova il caro di stutte e la foresta guardiana e risolvi il problema basta problemi quanti problemi maronna guardano psicologo ok perfetto allora turno di mighty ora posso ora andiamo andiamo all'accampamento uomo bestia e dove sta perchè adesso io ho cercato ti seguimi ah aspetta mercante di armi non abbiamo soldi al momento quindi molto probabilmente non possiamo comprare niente esatto una picca niente un'asta puntita 11 niente no dove sono io non riesco ad andare in giro ma ora si prima una volta per uno io ora passo e adesso tocca a te ah ok perfetto ah c'è anche danni da freddo ah lol ah è una volta per uno quindi si allora io vengo vieni da me vieni da me che combattiamo insieme no no qui qui ok ok scusa ok perfetto poi se ti rimangono dei movimenti ti da dei punti vita capito ah ok ok poi e poi invece per passarlo c'è la clessida in alto a destra dove cavolo sta eccolo qua perfetto perfetto dovrei averti passato il ok adesso io entro e facciamo provo imboscata vediamo un po' ok va bene oh cavolo prima vanno loro si prima vanno loro ah ok allora se ti vedi questa è immune al fuoco immune al gelo e immune alla scossa tutte e due hanno 9 punti vita quindi poi abbiamo noi abbiamo io ho 32 punti vita te 36 esatto si e possiamo usare siccome per ogni colpo che tiriamo ci sono dei punti concentrazione vedi questi qui gialli che abbiamo sopra il nome si te li puoi usare per darti un punto bonus di concentrazione ok attacco io ah si devo attaccare io perfetto allora secondo te con cosa attacco arco si ok lo faccio normale oppure mi da un po' di pure no no ok allora faccio così ok ok poi io ho per esempio usa concentrazione provocazione attira l'attenzione 80% di riuscita poi fragore 10 danni fisici 81% con 4 punti di concentrazione e usa concentrazione onda elettrica 5 danni ad aria però c'è il 25% che lo faccio perfetto e faccio 10 danni fisici e 71% di accuratezza quindi io provo questo però uso un punto un punto di concentrazione eh guarda che botte che ho dato eh ne manca una sola quindi adesso allora dove l'hai aia le la dovresti shottare ok allora ehm perfect level combat ah ok quindi facciamolo è un uovo che fai ma no si è andato via ma perchè? ciao ciao te lo combatti te adesso ma perchè sta cosa? non lo so perchè io l'ho scoperta ieri quindi a molte volte lo faccio ieri ero stavo giocando con uno in coop online che ho trovato a un certo momento non mi ha detto attacca attac perchè era inglese io faccio scappa via che cazzo vabbè comunque i primi me li sono presi tutti io e vabbè fa niente tanto non è che mi allora facciamo dobbiamo fare anche quest'altro vai vai stavolta non scappo via tranquillo ok allora facciamo combatti normale combattimento normale aspetta vai questi hanno due armature di protezione due punti ok quindi un attacco con l'arco credo che non sia proprio il massimo e c'abbiamo quello eh io c'ho solo quello effettivamente usa focus per rompere però posso romperli forse un po' gli scudi si prova con un punto di focus con un po' si dai ah beh ha dato tre perfetti proprio dai ti ha fatto danno un po' ma però gli ho fatto danno dai si si allora io provo di nuovo questa qui su di lui ok ha sciotta uno di due esatto tre danni li fai un po' si esatto dai uso il focus è preciso proprio mamma mia ok ok attento tocca a te perchè io hai io ho 30 punti vita adesso no tu ne hai 22 mi spiace per te gg abbiamo vinto eh dai eh allora condividi oro ok gold ok questo mi serve a me perchè è fisico eh me lo potevi passare vabbè ah eh ups eh vabbè sorry eh eh e se te clicchi sull'inventario me lo puoi passare si eh eh c'è lo zainetto disegnato allora oddio è un po' allora armor resistance evasion attack damage se te guardi la live lo vedi te lo sto segnando sulla live ok effetto un attimo perchè effettivamente il eh non posso cambiare lingua io mmm si game no non è game no controlli controlli eh che strano boh eh se te vedi la live te lo sto indicando guarda col mouse eh ah dovrebbe essere questo qui? l'ho già metto io ah eccolo qui dovresti essere tu questo ok ma ti serve quindi? si perchè è per lui proprio ah è proprio per lui ok si io non ho le sue armi capito? ehm allora ah questa qui è lo zainetto ok ehm questo è l'arco e poi cos'è che io ho? non mi sono neanche accorto di quello che ho preso ah è questo dovrebbe essere se faccio ecco... eccolo infatti quindi ehm arco lo voglio equipaggiare e per passarti questo te lo devo dare ci clicchi sopra e poi fai pass dai a ah ok quindi se ci clicco qua give ah non te lo posso giveare ah perchè siamo troppo lontani forse ah ok aspetta allora ehm o ti avvicini tu a me o io a te quindi ehm di chi è il turno? il turno mio? è tuo però hai zero passi quindi allora passo ok ok me lo dà perfetto ehm arrivo da te allora perfetto ma io non sono quello eh eh no dove sei tu scusa allora ehm sono questo qua io te stai andando al mercato un altro questo è un mercato guarda dalla lave sono questo ok sono orbo io quindi non ci vedo questo vedi dove c'ho la freccia ehm eh perchè è rallentata allora quindi ma dove sei qui questo eccoti là eh oh alleluia l'ho visto allora oh eccolo qua give perfetto ok ehm dove ah ok vuoi che ti passo uh ho 37 cos ok non ho capito come ma ok poi adesso dobbiamo trovare si si ok hai tre passi in questo caso e andiamo verso l'accampamento del lupo dove c'è il lupo quello grande forse no aspetta lui cosa voleva la taverna la foresta caro distrutto vabbè andiamo verso verso il lupo ok chi è? ah no abbiamo un combattimento abbiamo un combattimento ok vedi che ha cambiato l'arma ah eccolo infatti ho visto ah vabbè dai uso questo dai perfect è morta abbiamo vinto già si vabbè vabbè troppo forti c'è allora condividi condividi ok ah ok devi farti monetine è basso ah ok monetine è basso ok vai sta a te ok vai verso il lupo però non ingaggiare allora ok aspetta no vengo prima verso di te si e poi dove dobbiamo andare ah no verso il lupo questo è il lupo ah ok 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 vabbè avevo solo un passo quindi troppo l'hai passato a te quindi hai quattro passi tu allora tomba sul sentiero qui purtroppo servirebbe un mago che non l'abbiamo e indaghiamo quasi niente infatti no non mi ha dato niente ah cavolo cazzo ah ma sei da solo eh sei da solo te lo dico si mi ha anche maledetto eh infatti ho visto allora buon combattimento io ti sto vedendo quindi uuuu cacchio hai fatto un bel po' di mago no ma mi ha maledetto le maledizioni rimangono ah no cavolo e quindi se rimangono cosa succede eh dipende dalla maledizione io adesso mi posso muovere meno in mappa hai solo 5 punti vita stai attento eh devo usare l'erba hai 20 punti vita adesso perfetto quindi ti potrei muovere meglio cioè le maledizioni il problema è che se le hai poi è difficile togliere eh ci vuole l'erba che rimuove le maledizioni che le bisogna prenderle in città o da un vendor che c'è random ok dove andiamo adesso allora bisogna andare da lupettino c'è bisogna non è che bisogna per forza bisogna seguire le obiettivi principali ma non so dove sono quindi si ci si va a fare un po' le ossa al giro eh ora ti devi muovere te quindi ah ok me l'hai passato io ho passato vieni vicino a me ehm dove sei? ehm qua dovresti essere accanto al lupo qui? va? ok ma puoi anche entrare a ingaggiare ah ok perfetto eeeh prova imboscata prova allora imboscata sarebbe ambusk? si ok imboscata che l'imboscata serve che sia successo lui non si praticamente rimane da solo ah ok allora vediamo un attimo qui ho il 73% però qui ne ho l'80 eeeh proviamo uh buono eh tocca ancora a me eeeh lo faccio ancora che rischio che a me mi compare sempre se cosa è dell'erba ahia va bene ho 35 punti vita io quindi allora 12 dovrei shottarlo vediamo un po' oh gg fai fai tu tutto quello che devi fare si condivido allora a te ne sei pie vabbè eeeh lo tengo lo tengo io per ora ok collec allora pa 15 lo provo questo lo uso subito ok non c'ho bisogno oh mi hai quasi raggiunto gg no ma quello sei punti vita eh ah ok ok allora facciamo l'accampamento a sciamano bestia mmm però piuttosto te lo passo a te perchè così abbiamo 34 punti vita a testa hai due passi cavolo eh perchè ci sono moledetto eh si poi puoi andare anche allo stagno profondo che è un bones se riesce a farlo eeeh me l'hai passato il coso eeeh andiamo quindi qui al si è allo stagno profondo allo stagno profondo qui accanto alla bestia cioè qua andiamo si ma un passo avanti ok vabbè si è andata la bestia è andata di là ah scusa se vuoi faccio no no tanto c'è da farlo qua ok facciamo no fai i combatti tanto qui non si unisce nessuna perchè vedi lui ti da gli esagoni rossi se in quegli esagoni rossi c'è un'altra creatura si unisce ok provo con questo io buono tocca a te adesso ah no tocca a loro adesso ok aia cacchio allora io provo allora con questo c'ho anche estordimento ok andiamo passato qua buono purca ma stordito eh minziga eh io direi no faccio ancora quello shot direttamente tanto è more tanto lui lo sta fermo un turno esatto lui è stordito quindi pam bel colpettone in testa poi ci sono io che faccio voglio direzzi Horizona 2 di resistenza eh fai delle Giornian 2 di resistenza 2 di resistenza 5 5 audi dai va bene vedi che c'era questa stagno profondo qua ci posso andare adesso due passi ancora allora prova dobbiamo far div credo niente niente ti passo il turno però non so dove è sta roba qui che dice dove viene dice da levarmi sta maledizione che se no non mi muovo più andiamo a woodsmoke questa qua a woodsmoke ok che se no mi compro qualcosa per levarmi la maledizione ok passa passa che ti piace macaco? macaco? sembra carino eh non è male dai fatto che a breve devo andare a mangiare anzi a cucinare oh qua scarichi te lo dai hai tre passi ho saltato un turno non so perché ma quindi perché è cosa che hai sbagliato prima ah ok quindi hai tre passi tu sono tre classi giusto? no ce n'è di più ce ne sono tante di più c'è cinque o sei credo sì esatto forse anche di più ma alcuni non sono sbloccabili sicuro comunque sono ma allora qua possiamo scegliere una missione tra cui o consegna oggetto qui ci da una verga di vetro 12 raro 12 di danno però per chi ha la magia quindi a noi non ci interessa ok altrimenti la taglia oro ci da 30 di oro o la taglia di recupero ci da 49 di oro oppure quest'altro io farei questo con 49 di oro recupero cercasi corriere se offre pagamento a chiunque vada a prendere e riporti l'oggetto lettera d'amore del tempio vicino a porto equivoco pagamento la consegna poi che è questo qua? ah lì dobbiamo andare perfetto poi un'altra qua se mi ridà ecco va bene missione accettata poi mercato allora la pipa serve che praticamente ti te quando consumi un'erba se c'è la pipa ti dà il doppio ok quindi questa va presa però abbiamo solamente 20 a me mi servirebbe da guarire dalla maledizione però costa 13 quindi bisognerebbe fare che la compri te perché te c'è 33 potresti prenderti la pipa e anche la foglia e poi me la passi perché io ho solo 23 quindi mi prendo la pipa ok ok altrimenti ci si potrebbe prendere qualche arma ma al momento intanto le armi si trovano ok e poi si può fare anche servizi dormire per recuperare punti vita ma non siamo messi malissimo io passo ok stati 4 passi e forse non ce la faccio ad arrivare e vabbè ti aspetta qua pam poi te lo devo ripassare perché se no così ti dà dei passi 2 vai poi ok tu me lo ripassi e me ne dà altri 3 perfetto quindi aspetta ok ci arrivo perfetto allora vai sul mercato eh sì perché io ce l'ho in inglese quindi allora la pipa l'hai presa tu quindi sì la pipa prendila perché anche a te ti serve ok quindi faccio buy and equip e poi dovresti prendere una roba che leva la maledizione che è tipo una stella un'erba stella un'erba stella ma come si chiama tu ce l'hai tu non ti ricordi eh no comunque le leggi che c'è scritto che toglie le maledizioni a forma di stella con un coso celestino nel mezzo questo è per gli hp vero no no use to replace più 4 di focus no relieved all courses no oddio dovrebbe costare 13 mi sa quindi dovrebbe essere questa qui la haggsbane dovrebbe essere credo come è fatta use this hero to be relieved of all courses e' a forma di stella si con 4 così azzurri sopra si vabbè se questa allora vabbè dai la prendo oh non riesco aspetta no forse non riesco eh no infatti cacchio costa di più costa 13 ma credo di non aver se no allora passami passami le monete guarda se le prendo io ok cioè si può passare le monete come si fa attacco damage allora dove stanno le monete probabilmente allora ehm potrò servire il coin si chiama così per il mio no mi sa forse allora le monete sono in alto se te vai in alto vai su infatti ho 3 di gold io ne ho 3 soltanto no 13 hai ah no 3 è vero allora passa passa perché ne hai 13 te quindi passa 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 e nel frattempo faccio un po' e se riesco a prenderla io si se costa 13 dovrebbe essere quella giusta perché allora perché ho pensavo che la avevi te 13 invece avevo io allora quest'erba per guarire tutte le maledizioni tormento della magera capito? dovrebbe essere quella allora si no ma la potevo prendere fin dall'inizio eh infatti allora la uso poi vado un attimino a questo punto di domanda a vedere cos'è ok occhio attento niente fallite tutte cacchio vabbè te intanto avviati verso il porto dove sta il porto effettivamente aspetta era questo qua di lato porta equivoco a destra non riesco non so perché ah ecco perfetto se ti guardi da là ve lo vedi ragazzi mi vado a mangiare ma è dopo buon appetito ciao per lo domani ci sentiamo mai di ciò che è d'accordo mio va bene va bene va bene ciao facciamo quello dovrebbe essere questo qui che si chiama shady force eccolo qua perfetto si si passami la roba che roba se no non posso camminare io quindi come no è il turno eh si passami il turno la roba scusa il turno la roba che roba io posso ho tre passi quindi devo andare fino a qua io aspetta che c'è il corpo che vogliamo fare vai combatti anche se penso tu forse sei da solo ah è vero perché vabbè dai provo tanto tu mi vedi ah no no ecco siamo insieme ah sono anche due quindi c'è una tormenta di neve prima ha ucciso uno vai contro di me ma niente di che e tocca a te eh mighty ok infatti diciamo cosa sta facendo victory vai dividi le monete grazie due di veleno questo è buono stella ehm presi ancora due di veleno perfetto vai avanti vado avanti di uno e ti passo il turno is your turn in teoria dovresti ah io ho saltato il turno ah hai saltato il turno prendete la maledizione e ecco in questo caso dove vado dove vado vado qua allora allora hai scoperto eroi di pietra gli eroi di pietra rigenerano la concentrazione di un personaggio e forniscono p.m. si può rendere mangi solo una volta vai che te punti i punti li hai usati tutti vai è questo qua ah ok stone hero perfetto ehm tribute faccio oh buono però hai punti concentrazione quando te fa un attacco usano uno solo non li usa tutti subito capito? ah ok ok perfetto e ok allora vado al porto direttamente perchè ok ho preso la lettera ah la love letter perfetto collect e poi la devi riportare che credo è in città penso io eh pure io penso ok e niente ti devo fare ti devo passare il turno passa il turno cosa è questo punto vado a vedere cosa è sta tomba eh sì va bene è vero il problema che vedi che questo qui ti da il il cervello si vuol dire che questo qui lo deve fare il mago noi il mago non ce l'abbiamo se lo facciamo ci da tutto negativo eh sì quindi è meglio non farlo ti aspetta in città ti aspetta in città ok quindi la wood make wood costly passami il turno poi almeno credo bisogna passare in città eh eh credo pure io ho cinque passi quindi niente devo andarvi non posso andar fin là devo andar fino a qua per forza fai questo ho scoperto questo questo credo che non so se questo simbolino qui è il mio invece no questo è il eh non lo so sinceramente però comunque prova dai tante uno solo eh faccio drink o throw coin se 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 lo fallisci ti da avvelenamento eh ah eh eh cacchio no vai bevi prova bevi a prena no no madosca eh per togliere l'avvelenamento c'è devi usare l'erba eh qual era non mi ricordo aspetta ehm era questa non la love letter dove cacchio è la panax questa qua dovevo usare eh non mi ricordo se lo sbaglio ok dovrei essere guarito in teoria perfetto eeeh vado po perfetto ah questo è rimasto comunque cosa il pozzo di desiderio eh beh eh credo che rimanga sempre allora mentre ti aspetta e lo faccio combattimenti io ok eeeh come vuoi se vuoi fightare oppure no ci sei anche te si si ah beh allora ok adesso è colpa tua che è eeeh 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 mettiamo questo tanto l'ho fatto bello potente perfetto allora io provo questo e ne uso uno no ma perchè me lo leva porca putt io lo metto e me lo levo niente aia perchè addosso a me devono eeeh mi stanno confiando eeeh eeeh ma ammazzarebbe pestello da 2 quello da 2 si allora lo ammazzo così perfetto tocca a lui voglio vedere se riesco a stordirlo andiamo andiamo no però non lo sto diso sciottalo allora eeeh scusa che stavo rispondendo al messaggio si perfetto abbiamo vinto adesso allora eeeh pass faccio così eeeh te lo passo in teoria si potrei anche prendete tanto no ah vabbè si poi vai dove dove dobbiamo andare ah si in città giusto non so se in città lettera vado portata in città no vado quindi qua si per andare in città ah cavolo ecco eeeh ah è sparato va bene combatti dai eeeh faccio provo a farlo secondo te il laeeh vabbè no ma l'imboscata serve se c'è qualche altro nemico vicino capito per non farlo unire questo ruba soldi eh infatti noi non ce l'abbiamo quindi ruba poco ok tocca a te vediamo se riesco a stordirlo si uh cavolo e vediamo se riesco ad ammazzarlo adesso no dai neanche uno che cavolo due beh tanto è stordito si esatto tra questo ammazzato eh vai eh grazie a me eh eh 5 oro eh mica male 5 ore a testa io ho 10 10 monete di bello andiamo in città eh completata 49 uh 49 eh me li prendo tutti io no dai scherzo eh te ne passo qualcuno al cattedrale eh puoi splittare non so se potrei splittare eh ma le hai presi dove te le hai messi ah no oddio no ho sbagliato vabbè eh li ho persi come li hai persi no perchè non no ho fatto il ho fatto il tasto non ricevi diciamo rifiuta il ma come rifiuta ho sbagliato scusa vabbè dove andiamo eh andiamo sai dove dove si può andare eh non lo so ecco famo che te l'ho detto allora proviamo ad andare all'accampamento fantasma ok passami il turno madonna ha rifiutato 50 di oro no ho sbagliato ma non pensavo cioè perchè avendo il gioco in inglese devo capire mettitelo in italiano ma poi scusate non lo so in inglese non riesco non riesco a mettermelo adesso quindi eh vengo verso di te perchè più eh vado un po' più avanti cos'è? se te fai ask se faccio ask aspetta ti posso dire partita partita no no non è partita perchè non è il controlli no salva ed esci videogame no adesso non trovo a metter video eh video non è quindi audio no in partita non trovo a metter eh quindi adesso non è che faccio save video tocca a te tocca a you allora non so se questo se questo è un accampamento quindi fa parte della missione ok ok ah ok me l'hai passata a me si vaci subito qua no 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 non lo combatto ok reteret qui campamento fantasma eh oddio aspetta lo vedo dalla live ma vai dove sono io ah ok un passo avanti dove sono io ok te seguimi vai un passo avanti ma sei a zero eh no sono a zero allora passo il turno te basta che mi segui allora voglio fa prima la forza qui vediamo che mi da proviamo e 15 ps buono poi andiamo a combattere combatti questo di prima dai no oddio avremmo allora questi sono immuni assanguinamento fuoco gelo scossa estordimento pure minchia nooo però non ha l'armatura vabbè allora posso far così bam adesso mi darà sicuro mi darà qualche maledizione guarda qui almeno uno usalo di concentrazione ok no non mi ha dato nessuna maledizione credo perché l'ha schivato ah meno male allora tocca a te io comunque i punti fedeltà quelli li che uso nell'autolive li ho per niente già spesi si tutti eh no proprio però sto scrivendo dei messaggi a caso eh ma ancora 5900 quindi ti entri poi te ne dà un'altra chiave quando ci punti non c'è mica problema vabbè ma tranquillo ehm cosa uso non lo so sinceramente usa un punto concentrazione ma vabbè per ora finchè non ne ho fatto 9 di danno nooo cavolo ok allora io non li uso tanto in due ci si dovrebbe fare vai ok ehm ti prego ok meno male ma anche se te ne dava due ci si faceva eh anche forse con allora 3 di illusione mmm collect 3 hai fatto equipaggio ah eh l'equipaggio subito no perchè no l'ho equipaggiato ma faccio equipa allora perfetto devi andare allo zain hai tu il turno si vai tu devi andare nello zain e mettere equipaggio adesso si si l'ho messo l'ho messo ehm dove dobbiamo andare allora vediamo un attimo eh questo sei tu ah questo sei tu ok facciamo l'accampamento del borsaiolo questo in alto ehm aspetta te lo ripasso a te così in teoria dovresti avere poi il coso perché così ti seguo almeno hai 5 perfetto ah praticamente è su di qua bisogna andare su se poi vedi da lei ve lo vedi mi sta indicando si è chiuso eh mi si era chiusa la live quindi adesso non so sopra allora ah lì ok perfetto ho capito ho capito dovrebbe essere quello lì ce l'hai tu ancora il tuo punto puoi ancora andare avanti eh quindi di uno no c'è zero no c'è zero avevi uno ma vabbè avevo visto io che avevi uno allora io arrivo qua tocca a te ma ok no è sparito è sparito non c'è più no cavolo allora allora andiamo verso Orton Orton perché non so dov'è le missioni che dice lui eh non lo so sinceramente vabbè affrontiamo questo cobaldo qua davanti a me va bene ma perchè passi quando ne hai uno ma è strano perché io te ne vedo uno e poi vabbè quindi questo qua ma io ora se andavo avanti lo ingaggiavo hai capito no eh ah ok l'ho ingaggiato io combatti eh faccio fight allora sai cosa cosa resiste c'ho due punti armatura solo ok allora rompiamogli le tue tre pam sempre a te deve far danno ok tocca a te provo lo stordimento se funziona no è bloccato l'hai bloccato e io provo così ok vabbè l'ultimo gli ultimi tre 12 porca boia porca boia ok vabbè l'hai passato almeno dai ho fatto un sacco di danno eh sì li vedi la lancia credo che la puoi usare forse anche te fa forse meglio l'arco mhm però ora la colleziono poi vediamo dai ok allora intanto mi devo anche curare quindi andiamo in città vai che meglio ok ok aspetta perchè avevo zero quindi te lo passo ti passo il turno comunque ti ho scritto cose stupide in chat eh te lo dico non ho visto vai quanto mi dà? oh 5 è preciso ma in città curati allora ehm market vediamo un po' cosa c'è nel market voglio vedere eh ma tanto con 10 monete è un complico praticamente niente no vabbè posso comprarmi cose proprio allora la torcia non credo che mi serva degli stivali più uno di armor ma niente di che in realtà questi sarebbero utili proprio 14 di ah ma teniamoceli vai no infatti poi tanto se ti devi curare devi pagare eh allora 10 di ah per la vita devi pagare 10 mi spiega se devi fare praticamente il pernottamento eh beh io ho ancora 21 quindi più te dai a te hai 12 non hai 21 21 è la vita ah giusto è vero e allora si aspetta toh ok mi son curato eh vedi c'è rimasto 2 monete eh mi sono rimasto 2 monete infatti vabbè vieni il turno vabbè vieni il turno no vado io faccio i servizi locanda 5 perchè ti hai fatto guarigione io faccio locanda che costa un po' meno vedi ma mi ha dato più o meno quasi tutti i punti vabbè ok dove andiamo allora io trovo la tavenna la foresta guardiana eeeh non so dove è sta roba accampamento borsaiolo trova anche combattere effettivamente antiche ruvine porto banchina dimenticata accampamento orso guerriero facciamo una cosa a provare questi orsi guerrieri secondo me sono un po' proviamo secondo me sono un po' pesantino vai 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 ti aspetto ok 5 vai allora vado indirettamente ok fai combatti che non ci dovrebbe unire nessuno combatti ok è da solo quindi allora cosa ah ok posso equipaggiare un'arma anche si ah eccola qua eeeh no vabbè arco no due tanto vabbè allora io provo a stordirle uso la concentrazione perchè non voglio fallire vediamo un po' vediamo un po' ne uso due pure no ma perchè mi li leva ehi e mi li leva mannaggia a te ahah vabbè adesso non tagli ha levati sto giro perfetto allora faccio faccio anch'io no vabbè tanto ora sto fermo il prossimo turno quindi si ammazza non puoi farne anche senso ok allora proprio il forno dai ma come zero proprio cioè ma cosa cavolo vabbè ho fatto attaccare inutilmente che cacchio lo secco io cioè proprio l'ho fatto secco allora condividi condividi quindi tu ne hai 9 e io ne ho 5 perfetto ora vogliamo dove vogliamo andare adesso sempre male andiamo qua tanto ah ok leggi testa i santuari proteggono un personaggio dalla morte ma nel frattempo vengono distrutti non ha senso sta cosa ok cioè ti penso che ti protegga da 10 probabilità di critico proviamo devo voto vai ok ok va bene dai tieni ti passo di nuovo il turno no vede qua 5 ecco la taverna ora possiamo continuare la missione oh perfetto eccola qua la taverna maledetta passa dietro e non passare davanti all'orso ehm aspetta io dove sto perchè non lo so sai dove hai preso ora il santuario ah e non mi hai passato il turno cioè non posso muovermi io devi passarmi il turno credo vai ok aspetto ok vai alla taverna vado alla taverna direttamente ok e facciamo enter si ah bellino bellino il pirata figo vai cos'è un libro maestro questa qui è la nostra mappa del tesoro l'abbiamo trovata in modo onesto dovrei passare sul nostro cadavere per averla vai vai devi cliccare te ah si scusa che mi stanno chiamando su discord quindi ok ok perfetto tanto facciamo questo e poi anche stacco non c'era niente non ci sei neanche stasera tu eh stasera che cosa hai bisogno ma è soltanto no è soltanto un po' per vedere come sta avvenendo un po' per per testare delle cose così almeno nooo senti lascia che faccio dai no tocca a te sto al dito tocca a me ehm provo con questo uh no cacchio però mi hanno fatto male vabbè eh no vabbè dai allora lo fai fuori te io colpisco lui ok proviamo e sì io lo fai questa cosa che male deve va che male deve va vabbè scelta l'alticcio eh no no l'ha schivato no l'ha schivato cacchio uh schivato buono dai colpisco lui eh ok ok l'ha un uomo ok ammazzato perfetto e la usiamo appunto concentrazione no vabbè senza problemi perfetto allora 16 di oro 16 monete ehm com'è che era condividi perfetto poi lì un raro manoscritto sull'epica storia di fuori può essere usata per sbloccare dei segreti in tutta l'area buono buono ah ok due di armatura due di resistenza due di talento due di fortuna equipaggio a tutti se non mi interessa tocca anche a te di nuovo questa antica mappa sembra indicare la posizione di un tesoro bello ehm cos'è che è ehm questo è un antico libro ringold ok non lo perfetto non potevo fare altro a parte collection quindi questa è la missione l'abbiamo fatta perfetto va bene adesso devo andare a combattere contro questo coso che c'è qui sotto sì facciamo l'ultimo qui che puoi stacco pure io ok no così combatti da solo eh ehm mi devi aspettare ritirata 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 e ti aspetto dai che facciamo l'ultimo ma sono ancora le 8 e un quarto potresti anche ok c'è lì tu cosa fare eh ce la fa imboscata se no si unisce anche quell'altro no si è unito vabbè si è unito comunque e ci attaccano tutti guarda lì maledizione impaurito io sono te sei impaurito nooo eh lo fa quando sei impaurito cavolo esco pure io allora questa poi ti leva 17 l'ho rubato no tu tu ti ha rubato nooo mi fa uscire nooo nooo ehm no mai ti ci muori dai attento ok puoi andarti eh ora abbiamo troppo poca vita però per ricombatte ehm beh anche io ho 19 di vita quindi va bene dai ragazzi concludiamo qui comunque bellino mi piace poi se scarica anche il macaco si fa la coppa anche con lui eh infatti molto molto carino si poi è tecnico molto molto tecnico si è l'unico gioco che posso giocare senza problemi yeeeh yeeeh salva va bene ok si esco anch'io va bene alla prossima comunque la riporto a breve dai non è male va bene ragazzi noi ci vediamo quindi per la live ci vediamo lunedì domani non faccio niente esatto e niente alla prossima lunedì ciao